Buonasera a tutti, grazie per essere qui, benvenuti all'undicesima edizione del Tremezzo Jazz Festival ed Intorni. Scriveva bene Claudio Sessa ieri sul Corriere della Sera quando diceva che molto spesso sono le piccole località che si appassionano ai grandi eventi culturali soprattutto e li fanno crescere nel tempo con gli anni incuranti di quelle che sono le mode del periodo e soprattutto le crisi economiche. Direi che questa immagine si sposa molto bene al nostro festival. L'anno scorso abbiamo celebrato la decima edizione, l'abbiamo celebrata alla grande con grandi artisti, pensavamo addirittura di essere al capolinea, però poi ci siamo detti in fondo di fronte a uno straordinario successo che abbiamo raccolto sia di pubblico che di critica, perché non riprovarci? E allora lo abbiamo fatto effettivamente con qualche difficoltà in più, infatti abbiamo dovuto fare qualche taglio, lo abbiamo ridotto da 4 o 3 le serate, però abbiamo voluto mantenere il cast artistico assolutamente di prim'ordine, la qualità è quello che ci interessa di più in questo festival. E quindi io direi di partire subito, di lasciare poco spazio alle chiacchiere, perché so benissimo che le chiacchiere prima dei concerti non sono molto gradite. E quindi vi presento la prima serata del nostro festival, che è la serata tra l'altro più internazionale, perché abbiamo ospiti due tri con capitanati da due personaggi molto importanti. Cominciamo dal primo con la serata dedicata al bassista, al contrabassista Yuri Golubev, un contrabassista moscovita che però poi ha scelto di vivere in Italia ed è un personaggio che pur partendo da una formazione classica ha poi continuato nel jazz e questa sera lui è considerato uno dei più grandi virtuosi del contrabbasso. Da un paio d'anni suona con il trio che sarà qui con noi questa sera, hanno sviluppato e hanno lavorato molto su dei pezzi loro che ci porteranno qui, quindi ascolteremo pochissimi standard, ma soprattutto pezzi loro. Alla chitarra ci sarà Massimo Vescovi e alla batteria Marco Zanoli, per cui io sono molto felice di annunciarvi per questa prima serata del Jazz Festival il trio di Yuri Golubev. Grazie.